La partita viene rimediata all'ottantottesimo da Golemic con la complicità di Garattoni che la devia alle spalle di Tiamma per cui il risultato finale allo stadio Ezio Scira di Crutone di questo ventisettesimo turno di Serie C Gironi C anticipo del sabato è di 1 a 1. Apre le marcature al 54esimo Frigerio per il Foggia, sua azione molto confusa e sua azione molto confusa all'ottantottesimo viene raddrizzata da Golemic con la complicità della deviazione di Garattoni 1 a 1 linea allo studio.